il gladiato pareggia 1 a 1 contro il Francavilla siamo con il tecnico di Linazzurri Teore Grimaldi eh mister qual è il giudizio sulla partita oggi? Beh siamo siamo partiti forte nel senso che abbiamo trovato subito il gol potevamo raddoppiare poi dopo due o tre occasioni dove potevamo comunque chiuderla ci siamo siamo calati nel senso che ci siamo un attimino appiattiti e loro hanno trovato il pareggio su un calcio di rigore che ci stava secondo me per farlo di mano e alla fine abbiamo cercato nonostante la superiore numerica di di arrivare al vantaggio abbiamo comunque messo dei dei palloni in mezzo delle dei traversoni dei cross si siamo riversati nella loro metà campo però onestamente non siamo stati brillanti come al solito perché se fossimo stati brillanti come altre volte forse avremmo portato a casa all'intera posta in palio mister come si spiega questa mancata concretezza poi soprattutto anche questa seconda volta consecutiva in superiore numerica ma intanto quando giochi in superiore numerica e ce non sei neanche la storia dell'anno scorso dove noi comunque paradossalmente abbiamo costruito la salvezza in due gare dell'anno scorso in in inferiore da numerica quindi diciamo che dall'altra parte poi eh quando sei in inferiorità trovi sotto l'aspetto mentale deve deve aumentare l'autostima eh la squadra avversale ci si compatta perché cerca di fare densità soprattutto per via nelle vie centrali e quindi non trovi non trovi tanto spazio però alla fine ti ripeto forse l'abbiamo mossa in modo in modo lento rispetto alle altre volte e questo ha fatto sì che loro comunque potessero diciamo arginare un attimino i nostri i nostri attacchi